Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. In questo video andremo a vedere 1, 2, 3, 4 mezzi di trasporto elettrici che sono certo non hai mai visto. Non sono monopattini, non sono pici elettriche, sono altri mezzi di trasporto ancora non conosciuti. Partiamo dal primo, via. Il primo è questo, come vedi sono due mezzi diciamo indipendenti, due ruote circolari con supporto per la scarpa, sali su e mantieni l'equilibrio, vai avanti e indietro. Due colorazioni disponibili, 4,5 kg circa cada uno, massimo peso supportabile da entrambi 100 kg, in plastica ovviamente. BS, velocità massima di crociera intorno ai 12 km orari. Passiamo al secondo. Questi ragazzi come vedi sono simili a quelli precedenti nell'utilizzo in quanto sono singoli, uno per ogni piede. Andiamo a vedere le caratteristiche. Disponibili in varie colorazioni, rosso, giallo, verde, blu, nero, 8,5 kg come peso specifico dei battini, 100 kg massimo carico, 40 km orari massima velocità. Occhio ragazzi che sono pericolosi, se andate ad acquistare sono pericolosi. Andiamo a vedere, questo è un ruotone motorizzato elettrico, massima portata, 100 kg, 80 x 40 x 100 cm, in metallo, 6.4 Ah la batteria, 1000 Watt. Il motore, 18 pollici la ruota, 20-25 km orari. La velocità, massima. Andiamo con l'ultimo. Molto carini, molto ergonomici. Uno stile davvero, davvero ben fatto. Caratteristiche tecniche. 12 km orari massimo, 2 pattini indipendenti motorizzati, autonomia della batteria interna, 10 km, 3,3 kg peso cada uno. Tutti i ragazzi, questi quattro modelli si ricaricano a 230 volt. Hanno tutti batteri all'idio e vengono tutti, ovviamente, dalla Cina. Perciò se volete andargli a cercare, correte subito nei siti esteri e cercateli. Ciao ragazzi, se il video ti è piaciuto, un like. Iscriviti al canale. Al prossimo video.